cominciamo con la pittura Giulia sono presenti cinque dipinti uno astratto di grandi dimensioni che evoca i colori caldi della Calabria che dall'alto cadono verso il basso aggrovigliandosi e quattro figurativi che abbiamo quello più grande di dimensioni che è la città di Reggio Calabria in profondità come si nota nello scorcio tra le palme e questo quadro si chiama Rada dei Giunti altri due quadri a tema che sono il vigneto con i grappoli d'uva ed il marionio sullo sfondo e la vendegna, l'uva deposta nelle ceste ed infine in un altro quadro ancora è dipinta la Calabria personalizzata come fosse un'isola e circondata dal mare grazie 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 grazie